Risorse statali per oltre 10 milioni di euro ed oltre 2 milioni di cofinanziamento regionale. In totale una cifra di quasi 13 milioni destinati al sostegno alla rete dei servizi e scuola per l'infanzia. Sono questi i numeri con cui la Giunta regionale ha dato il via libera alle misure destinate al finanziamento del sistema integrato di educazione e distruzione della nascita sino ai 6 anni per l'annualità 2020. Al momento in Calabria la rete dei servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è insufficiente a soddisfare la domanda che arriva dai cittadini e comuni in particolare con riferimento da sedi nido, micronidi e sezioni primavera. Da qui la necessità, ha detto l'assessore al welfare Gianluca Gallo, ancora più pressante in tempi di pandemia, di garantire risorse fresche agli enti locali al fine di assicurare il funzionamento delle strutture educative pubbliche, private e convenzionate. La scelta è stata concertata con ANCI, ufficio scolastico regionale, sindacati e interlocutori istituzionali nello specifico la giunta ha messo a disposizione oltre 2 milioni e mezzo che sommate agli oltre 10 milioni messi a disposizione dal MIUR fanno quasi 13 milioni. Parte delle somme stanziate a concluso Gallo sarà impiegata per ridurre la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi.